meno tre al gran premio di san marino alla giornata di prove libere a misano giornata di annunci in ordine cronologico prima la onda ha ufficializzato john mir a fianco di mark markets nel 2023 nel 2024 quindi l'apriglia ha ufficializzato i nomi dei piloti del team satellite quello di razzan razzali saranno miguel olivera e raul fernandez nessuna sorpresa quindi né in casa onda né in casa aprilia partiamo dalla onda io non so se mir sarà efficace con questa moto così difficile che verrà probabilmente molto cambiata per la prossima stagione ma mi sembra che l'accordo sia di quelli molto importanti sia per l'hrc sia per john mir io personalmente considero john mir un grandissimo pilota che però quest'anno mi ha deluso molto mi aspettavo molto di più da lui soprattutto prima del famoso annuncio di carezza anche prima del famoso annuncio di carezza del ritiro della suzuki lui comunque è stato inferiore al compagno di squadra alex rins mir e rins quindi si ritroveranno da compagni di squadra suzuki a compagni di marca in onda uno nel team ufficiale l'altro nel team satellite di lucio cecchinello e qui vorrei fare una considerazione su alberto puig il tanto criticato alberto puig e ancora io devo capire perché allora puig in comunque in questa stagione si è assicurato i due piloti liberi forse più forti teoricamente più forte perché mir e rins sono due piloti di altissimo livello ma la gente continua a criticare puig perché cosa sbagliato se poi la moto non va non è certo colpa sua poi su questa cosa continua a chiedere spiegazioni cosa sbagliato alberto puig e nessuno me lo dice io dico che nel 2023 lui si è assicurato 23 piloti più forti liberi sul mercato non poteva fare di meglio per quanto riguarda l'aprilia al team satellite aprilia scrivere a miguel olivera e raul fernandez allora sulla carta è una squadra di altissimo livello miguel olivera è un pilota secondo me molto veloce ha vinto in tutte le categorie in cui ha corso ha vinto anche in moto gp ha dimostrato di essere molto veloci gli manca costanza gli è mancata costanza fino a questo momento anche però per i limiti della ktm quindi io credo che miguel olivera possa portare all'aprilia velocità esperienza e risultati raul fernandez raul fernandez è stato assolutamente il fenomeno del 2021 è stato il più forte di tutti perché al debutto in moto 2 ha sfiorato il titolo mondiale abbiamo visto stiamo vedendo quanta fatica sta facendo ha fatto fino adesso un altro fenomeno come pedro a pedro a costa ad affermarsi in moto 2 quindi quello che ha fatto raul fernandez l'anno scorso è di altissimo livello e quindi l'aprilia si porta a casa il giovane forse più promettente in assoluto del moto mondiale di questi ultimi anni di moto mondiale e quindi un gran colpo dell'aprilia è un grandissimo un grandissimo pilota secondo me uno che potrà fare molto bene in moto gp fino adesso in moto gp ha fatto molto male ma non solo per i limiti della ktm anche perché lui non aveva nessuna voglia di correre con la ktm in questa stagione ktm l'ha in un certo senso obbligato a correre nel suo team è secondo me una scommessa che ha perso che ha sbagliato e quindi io sono convinto che il raul fernandez che vedremo sull'aprilia sarà molto diverso da quello che abbiamo visto quest'anno in ktm ktm è l'ultima casa che deve definire i suoi due piloti anzi suo unico pilota per il team gas gas a fianco di pole spargarò sarà quasi sicuramente augusto fernandez ktm ha provato fino all'ultimo a tenersi a tenersi migalio livello ma non c'è riuscita sarà quindi probabilmente augusto fernandez ecco in questo caso se effettivamente sarà così io non condivido la politica di ktm perché se tu investi su un giovane come remy gardner un campione del mondo devi dargli la possibilità di crescere almeno due anni raul fernandez ripeto un discorso a parte lui non voleva correre con la ktm e quindi ktm non doveva assolutamente tenerlo anzi l'ha tenuto un anno di troppo ma wayne gardner scusate lemy gardner mi confondo sempre lemy gardner il figlio di wayne gardner secondo me meritava un'altra possibilità è questa la notizia in prima fila di oggi io sono lo zam vorrei sapere la vostra opinione